Ehi, scopriamone alcune! Agosto 2024, Mark Voice. Il significato di Ministerium della Declaratio, cercato al di fuori della Declaratio. Questa è la Declaratio di Benedetto XVI. Qui Benedetto XVI ha utilizzato tre volte la parola Ministero Ministerium. La prima volta che ha utilizzato Ministero lo ha spiegato in maniera tecnica. La terza volta che ha utilizzato la parola Ministero lo ha spiegato in maniera discorsiva. Chi l'ha letta per bene, personalmente, anche solo in italiano, lo sa già. Invece questo è Andrea di Napoli, che nel video sul canale Codice Runner, munus e ministerium, quando basta il vocabolario, afferma che lui, per comprendere la parola Ministerium della Declaratio, ha utilizzato il vocabolario di latino di Castiglioni Mariotti, in quanto questo vocabolario è per lui la Grundnorm. Grundnorm significa norma fondamentale. Ascoltiamolo dal video a titolo informativo, ai minuti 1 e 54 secondi e 16 e 40 secondi. Allora, il dizionario che io utilizzo è questo qui, Castiglione Mariotti, il vocabolario della lingua latina, quarta edizione, Loescher Editori 2007. Abbiamo consultato il dizionario di lingua latina, senza chiamare in causa traduttori, latinisti, periti, esperti, perché questa è la Grundnorm, questa è la Grundnorm, cioè la legge fondamentale, la grammatica. Sulla grammatica si fonda anche il codice di diritto canonico e sulla grammatica che si fonda anche il codice di diritto canonico. È la Grundnorm, la grammatica di ogni lingua. E la grammatica di ogni lingua è la medesima, sia se viene utilizzata in un settore ecclesiastico, in campo medico, scientifico, filosofico, speculativo, morale. Quello è il significato dei termini. Non possono essere manipolati, alterati, depotenziati, tanto più con una lingua confezionata come quella latina, che ci restituisce certezza terminologica. Bene, vi ringrazio e laudeto Iesus Christus. Da parte di Andrea di Napoli, persona intellettualmente preparata a modo suo, io vedo una scelta ben precisa. Non ha voluto studiare la declaratio da cima a fondo, come quasi tutti. Poi ha preso dalla declaratio solo una parola, ministerium, e ne ha cercato il significato al di fuori della declaratio, nonostante lì Benedetto XVI lo abbia spiegato due volte. Ha cercato il significato nel vocabolario di Castiglioni e Mariotti. E anche lì non ha studiato l'applicazione del vocabolario alla realtà. Perché esiste la differenza tra un monosufficio di ministerium, di servizio, e un monosufficio assoluto di responsabilità, di comando. Per esempio, in campo militare è la differenza tra un generale di campo, con funzione di ministerium, di esecuzione degli ordini. E il monosufficio di generale, capo di stato maggiore, il papa, con funzione di comando assoluto. Ma sarà per un altro video o per l'aldilà. È perciò evidente che ad Andrea di Napoli gli importa niente della declaratio e di Benedetto XVI. Per lui sono più importanti Luigi Castiglioni e scevola Mariotti. Con questa sua fiducia nel loro vocabolario ha preso questa informazione esterna alla declaratio e ne ha fatto la propria interpretazione. E della declaratio, e di Benedetto XVI, e di Bergoglio. Poi, magari, Andrea di Napoli, quando si mette a discutere, per esempio, dei Promessi Sposi o della Divina Commedia, fa quello che avrebbe dovuto fare con la declaratio. Per esempio, fa l'analisi del testo nel contesto, del testo ministero, nel contesto della frase. Per esempio, fa l'indagine della vita di Dante Alighieri, prima, durante e dopo la scrittura dell'opera. Per esempio, fa l'indagine sugli effetti che Dante Alighieri voleva ottenere con la Divina Commedia. Ma con Benedetto XVI e la sua declaratio, queste cose non le ha fatte. Amen. Buona declaratio a tutti! Grazie a tutti!